Sono professore di scienza e tecnologia dei materiali presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento e da più di 30 anni mi occupo di vetro e ceramici. In tutti questi anni, prima negli Stati Uniti e poi in Italia, ho condotto numerose ricerche anche sui materiali vetro ceramici per ciò che riguarda il loro comportamento meccanico e fisico-chimico, soprattutto in collaborazione con importanti aziende produttrici e utilizzatrici di vetro ceramiche per i settori dell'elettrodomestico, dell'automotive e dell'aurespazio. I vantaggi maggiori sono legati alla possibilità di garantire una maggiore qualità e salubrità nella cottura. Se confrontiamo infatti la vetro ceramica a materiali come l'acciaio o la ghisa, il paragone è improponibile vista la tendenza di detti materiali a ossidarsi e corrodersi e a rilasciare sostanze in maniera considerevole. La vetro ceramica invece resta assolutamente inerte. Inerzia chimica significa che non vi è alcuna alterazione nella struttura del materiale fino a livello atomico e molecolare, anche se la vetro ceramica è utilizzata ad alta temperatura e a contatto con varie sostanze, dagli oli agli alimenti in generale. Di conseguenza la vetro ceramica non reagisce chimicamente con i cibi con cui entra in contatto, ma ne opera solo l'opportuno riscaldamento per la loro ottimale cottura. La vetro ceramica utilizzata nei sistemi Venus è caratterizzata appunto da assenza di dilatazione termica ed elevata resistenza agli shock termici che la rendono eccezionali in impieghi come piano cottura. Il materiale peraltro mantiene intatte e tale caratteristiche nel tempo senza alcun decadimento delle prestazioni per un uso prolungato in tutte le fasi della cottura e della pulizia del sistema. Pulizia e manutenzione dei piani cottura in vetro ceramica dei sistemi Venus sono operazioni molto semplici grazie alle proprietà di durezza e inerzia chimica del materiale. In questo modo le caratteristiche di efficienza e igiene sono facilmente mantenute nel tempo.